Il potere delle parole. Citazioni che illuminano. Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici quanto della certezza del loro aiuto, Epicuro. Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. William Shakespeare. Il vero castigo per chi mente non è di non essere più creduto, ma di non poter credere a nessuno. George Bernard Shaw. Nessuno è più schiavo di chi crede di essere libero senza esserlo. Johann Wolfgang von Goethe. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle adesso. Paolo Coelho. Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei. Theodore Roosevelt. La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo con il passare dei giorni. Albert Einstein. A volte bisogna lottare così duramente per la vita che non resta più tempo per viverla. Charles Bukowski. La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che il pilota sei tu. Michael Altshuler. A volte la cosa più difficile non è dimenticare, ma imparare a ricominciare da capo. Nicole Sobon. Grazie per aver guardato il nostro video. Ricorda di mettere un like e di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti.